ah si fermo! fermo c'è una merda ultimobili c'è la merda c'è qui c'è il piano di merda e tu l'hai pestata? no! no! con i sandali, vai entro i aio ne viti? ne viti i smerdati, ne viti, vai vai ci ho portati il cane, ieri ci ho portati il cane nel cavo ma il tuo cane? il cane gli aveva sciolta, gli aveva l'infiammazione all'intestino gli avevo dato io tipo da mangiare, gli avevo fatto un pastone gli avevo messo un pastone, gli avevo messo questa roba di rive stagne dentro e si vede che li ha fermentato, nell'ortoglio li aveva a cagare ma potrei pulire? fermo, non ti muovere, c'è il pieno, c'è il pieno, c'è il pieno ma perché mi pulisco io ora? si ha la fonte, ora si ha la fonte e tu ti pulisci c'è la fonte fresca, se non è sia in casa e dai io c'è la fonte fresca ma ecco, non ce l'ho portato! bravo!